Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. È un partito plurale, è un partito con una sua complicazione, con una sua dialettica. Quindi è chiaro che lì c'è una battaglia politica che Elislein sta facendo dal primo giorno che è diventata segretaria. Anche perché nel congresso si sono verificati dei fatti abbastanza incresciosi in quella regione. La questione è chiara, secondo me. Elislein è la persona giusta per continuare a tenere insieme questa pluralità? L'ultima speranza del PD è Elislein, cioè l'unica possibilità che il PD ha di uscire da una condizione, perché ricordiamocelo qual era la condizione del PD dopo il 25 settembre. Era un partito che aveva perso la guida dell'opposizione, che stava su una china che tutti giudicavano finale e che sta invece con una spinta che è venuta in maniera anomala, ma con le sue regole anomale, sta provando a prendere una direzione nuova senza la quale non sopravvive il PD.